Eccoci qua, mi chiamo Reykjavik in Islanda, Reykjavik in Islanda, il tempo è quello che è, il paesaggio è quello che è, e comunque anche qui, nel freddo del nord più estremo, il nostro pensiero rimane sempre per Mimmo, vogliamo Mimmo libero, non dimentichiamoci di Mimmo perché Mimmo è tutto quello che noi abbiamo, Mimmo libero per sempre.